L'idea della Biennale d'Intart nasce due anni fa durante la presentazione della Mossa Erotico Contemporaneo quando la professoressa Lorena Gava, vedendo il nostro lavoro, ha detto che l'avevamo stupita e sembrava proprio la data zero di una Biennale d'Arte. Noi abbiamo preso l'occasione al volo e abbiamo deciso di impegnarci per la città e anche con i nostri artisti per dare l'inizio a questo tipo di manifestazione. La Biennale a Conegliano mancava. Sì, esatto. Crediamo inoltre che gli artisti sentano il bisogno di confrontarsi con delle tematiche sociali magari un po' più impegnate che vanno fuori da quello che è il loro lavoro quotidiano di artista, mettersi in gioco con qualcosa che non si è mai affrontato prima e poi è molto bello vedere anche una volta che si è realizzata la mostra come ognuno, ogni artista ha sviluppato quella determinata tematica. Noi per quest'anno abbiamo pensato di trattare l'inquinamento del mare, infatti la mostra si chiamerà In Alto Mare. Sarà dall'11 al 26 novembre e stiamo pensando di creare proprio un calendario di eventi che possa, un regalo che vogliamo fare sia ai nostri artisti ma anche alla popolazione della nostra città. Infatti stiamo organizzando gli appuntamenti che come pubblico avranno sia gli adulti che i ragazzi ma anche i bambini. Esatto. Grazie. 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 Grazie.